Gestiamo ora la comunicazione con il nostro sprite utilizzando sempre la parte dei sensori, ad esempio se noi clicchiamo su questo e portiamo quindi il chiedi come ti chiami e attendi possiamo dare una risposta e poi possiamo anche chiedere al nostro sprite di risponderci gestendo proprio la risposta. Qui vediamo che c'è risposta, quello che possiamo fare è ad esempio rispondere con il nostro nome e il nostro sprite ci dirà ciao pronunciando il nostro nome. Come si può concatenare quindi il ciao con la risposta? Andiamo a cliccare su gli operatori e vediamo che c'è l'operatore di unione, quindi qui possiamo unire ciao, quindi scriviamo ciao, spazio e risposta. Quindi in base alla risposta che noi daremo il nostro sprite ci risponderà con l'unione di ciao e il nostro nome. Quindi procediamo, come ti chiami? Io scrivo Stefano e lui mi risponderà ciao Stefano, quindi abbiamo gestito direttamente l'interazione attraverso quindi la barra di interazione di input.